Ciao a tutti da Al Saludatore, una grandissima sorpresa, mi trovo con una bravissima artista internazionale, una bravissima pittrice, ecco per voi Pietra Barrasso, ciao Pietra, eccoci qui, e allora ci troviamo qui, dietro abbiamo come scenografia un bellissimo quadro che ha fatto storia? Sì, diciamo è l'opera che è stata scelta dal Vittorio Sgarbi per la Biennale di Venezia, quindi un'opera rappresentativa che ha preso diversi premi e riconoscimenti, è stato inserito nella Mondatore, in copertine di libri d'arte specializzati, ha fatto un bel percorso artistico. Ecco qua, come nasce Pietra artisticamente? Pietra nasce da 40 anni di attività, oggi Pietra rappresenta e cerca comunque di portare nel mondo la luce, la ricerca sulla luce in tutte le sue sfaccettature e la trasmette in pittura e porta in giro questo messaggio che è un messaggio che accomuna il mondo intero e di luce ne abbiamo proprio bisogno. Ecco, perciò la luce e la vita, possiamo dirlo? Sì, luce e vita, la luce è proprio la speranza, la speranza in tutte le culture, in ognuno di noi, nel mondo, quindi non c'è mondo senza luce, è proprio la salvezza del mondo. Ecco, questo è un messaggio importante, tu con questi quadri porti questo messaggio. Sì, infatti la luce le inserisco sia nelle tematiche sociali che sto portando avanti, come la violenza sulle donne che è rappresentata da una farfalla con le ali frammentate e quindi però c'è sempre questo alone di luce, questa speranza che va verso diciamo verso un giorno migliore per tutti. Una rinascita. Una rinascita, sì. Una grande energia vitale. Sì, sì. Andiamo a vedere questa farfalla, ecco, adesso ve la facciamo vedere. e pietra, ecco qui. Ecco qui. Questa è una bellissima farfalla, una tua creazione. Quando è nata? Sì, è nata il mese di, proprio il giorno dell'anniversario di questa ricorrenza, il 25 novembre, che l'amministrazione del comune, dove io sono nata, della provincia di Avellino, mi ha invitata, Gotta Minarda, e quindi da lì è partito questo grande progetto di questa farfalla. E sono stata invitata e nella giornata del 25 novembre ho realizzato questa panchina rossa che è diventato un emblema per questa giornata contro la violenza sulle donne. E il mio messaggio, attraverso la mia, attraverso la mia pittura e questo messaggio di portarlo in tutti i paesi, le città d'Italia e all'estero, dove è più presente questo fenomeno molto triste della violenza di genere e violenza sulle donne e che con l'augurio che un giorno diventa solo un brutto ricordo. E diciamo che la farfalla incomincia a volare, diciamo, lontano nella sua pienezza e nella sua bellezza, perché la donna non può altro che essere rappresentata con la fragilità e la bellezza di una farfalla. Per questo, diciamo, ho scelto... Per essere libera e, come si dice, non si tocca neanche con un fiore. Si può donare un fiore. Noi incettiviamo tutti quanti a regalare sempre un fiore, a non perdere le vecchie abitudini. Assolutamente no, perché poi la bellezza truffa sempre. Esatto. Poi ovviamente un fiore reale, ovviamente, che poi mantenga tutto ciò che c'è dietro, perché se no tante volte è facile con un fiore poter comprare qualcosa e poi non fare, diciamo, delle cose come vanno fatte. E proprio far entrare nella cultura della gente, del mondo, diciamo, proprio la cultura e coltivare questa bellezza verso... perché un mondo senza la bellezza della donna, come dice anche Papa Francesco, è un mondo senza poesia, senza amore. Esatto. Poi, parlando di Papa Francesco, tu hai creato anche un quadro del Papa Francesco. Si, una collezione sul Papa della Misericordia, proprio in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia di Papa Francesco. Infatti un'opera sta in Vaticano, è l'opera più rappresentativa. sta in Vaticano. E poi c'è una serie di altre tavole pittoriche che, diciamo, hanno fatto il giro delle varie basiliche di Roma. Quindi abbiamo la Madonna anche della Misericordia, un'altra opera molto bella, la Chiesa di Santa Maria in Portica, in Campidelli, che rappresenta Papa Francesco di Spalle, che guarda come un umile pastore la Madonna, l'emblema, diciamo, di questa Madre di Dio nella sua bellezza assoluta. Ecco, questo bellissimo messaggio. Ricordiamo dove possono attualmente visitare queste due creazioni? Diciamo, lo studio Galleria, lo studio Barrasso Art Gallery, e sta in Piazza di Campidelli numero 2. Ecco, a Roma, al centro di Roma, vicino a Piazza Venezia, al Teatro Marcello, la Piazza Venezia e Teatro Marcello. Siete tutti invitati. Ecco, perciò non potete mancare perché veramente delle opere straordinarie. Io ti faccio i complimenti. Prego. E poi ricordiamo che c'è anche il sito. Sì. Ecco, diciamo. www.pietrabarrasso.com e poi c'è il blog, una donna, un artista, Pietrabarrasso, una donna, un artista, e poi ci sono le pagine Facebook. Ovviamente, consuete. Iscrivetevi anche qui sulla pagina, dicono sempre come Pietrabarrasso. Pietrabarrasso, sì. Ecco, perciò non mancate, facciamo una piccola carrellata, vieni insieme a me, così ci dici qualche titolo di queste bellissime opere, questo come si chiama? Abbiamo fasci luminosi che fanno parte sempre della collezione dei fasci di luce, abbiamo panorama di luce e colori, abbiamo panorama di luci, abbiamo riflessi, riflessi di luce, poi abbiamo tramonto sul mare che è sempre diciamo ricorrente questa luce che scende perpendicolare sulle opere che attraversa sia la reggezione e tutto quello che ricorda. Quindi, diciamo, la luce è proprio nell'anno delle cose, è proprio nella pittura, in tutto quello che rappresento. Infatti, non per questo sono stata denominata maestra della luce, maestro della luce, sì. E nonché ambasciatrice di luce, come in tanti eventi molto importanti, sia in Italia che all'estero, diciamo è stato cognato questo... e poi abbiamo questo che abbiamo presentato qui, ma l'opera, riflessi sulla finestra, che l'opera che è entrata fa parte, diciamo, è stata scelta per la Biennale di Venezia, il Biennale di Venezia, e poi abbiamo Pioggia di luce, che è quello che ha presso la vitale del Presidente del Senato della Repubblica. Siamo stati inseriti anche sulle pagine della Mondadori, ha avuto un percorso artistico molto, molto importante. Abbiamo riflessi della venite di notte, abbiamo fasci di luce che... Sì, fasci di luce, che è il nome di questo... Di quest'opera. Di quest'opera. Sì, che ha preso il premio al festival delle arti assoleto, e poi è andato anche all'estero, è stato rappresentato, ha fatto il giro, ha preso un premio molto importante, è stato valorizzato... Ok, a questo poi abbiamo Musica del Mare, che è quello che... Ecco questo, sciniamoci. Musica del Mare. Musica del Mare. Eccolo qui. Che, diciamo... Musica del Mare. Sì, perché ti travolge. Effettivamente... Sì, è un rock, possiamo dire, è un rock. Sì, quasi ti porta dentro e poi, in tutta la sua forza, esce fuori con... Esplode. Esplode, sì. Esplode, sì. In tutta la sua forza, almeno, diciamo, quello che è stato il mio intento, quello di... Effettivamente trasmette, veramente molto bello anche quest'opera. Questo è Raggi nel Sole. Raggi nel Sole. Raggi nel Sole. Sì, che ha preso, diciamo, anche questa è un'opera che è stata valorizzata molto dal momento che è entrata a far parte, ha preso il premio della medaglia della Camera dei Deputati. Quindi, diciamo, un'opera molto rappresentativa. Poi abbiamo luci e vibrazioni. Ah, luci e vibrazioni. Ah, luci e vibrazioni. Sì, vibrazioni. Proprio per questo suo modo di rappresentare queste onde di luci e colori. E quindi è proprio, trasmette, diciamo, l'invoazione proprio allo spettatore quando, diciamo... Le vibrazioni. Le vibrazioni. Le vibrazioni. Sì, trasmette queste emozioni quando si viene a cospetto, diciamo, di queste opere. Quindi poi, in ultimo, diciamo, voglio ricordare, queste sono opere che fanno parte dei colori dell'anima, una collezione a parte, però che comunque ha avuto un suo percorso e un suo significato molto interessante. Sono stati esposti all'Ambasciata Alaba d'Egitto, proprio per questa sua tavolozza cromatica. E quindi ha avuto questo dorato, con questa patina dorata, che ha portato avanti un po' questo emblema di questi segni, trasmette, trasmette proprio nella cultura egiziana questi messaggi, diciamo. E in ultimo abbiamo il bozzetto che è stato realizzato per l'anniversario della morte di Totò, è stato realizzato, che è stato scelto e inserito, è inserito anche nel folder ufficiale delle poste italiane, ed è il bozzetto del monumento a Totò che stiamo provando, diciamo, che si realizzera entro quest'anno, perché ricordiamo a metà febbraio c'è anche l'anniversario della nascita di Totò, e quindi a cavallo, diciamo, di queste due grandi ricordenze di un personaggio, un grande artista che ha dato, diciamo, veramente voce forte a tutte le generazioni passate, quelle di oggi, e sarà anche per le prossime generazioni, un messaggio, diciamo, di questo grande artista, e sarà, diciamo, rivalutato e anche rappresentato con questo monumento, che è stato scelto, che sarà realizzato e installato a Napoli, dove è nato Totò. Perfetto. Io cosa posso dire di più? Seguitela, perché chi non la conosce ancora avete visto solamente una piccola parte, ecco qui, abbiamo qui Pietra Barrasso, perciò seguitela sui social, e poi ci saranno molte sorprese, e facciamo questo appello in maniera che le panchine, con la sua opera, vengano messe una per ogni città, una per ogni comune, per aiutare, appunto, come possiamo dire. Che diventi soltanto un brutto ricordo questo problema, diciamo, di questa violenza sulle donne. che diventa, quando si guarda la farfalla, si pensa soltanto a un brutto lontano ricordo, e resti come, diventi un patrimonio, proprio un modello da seguire, per non sionare più la violenza, per pensare solo a cose belle, per far volare sempre più in alto la bellezza della donna e della farfalla. E io ti ringrazio e ho una sorpresa anch'io per te. La manina del salutatore, ecco qui. Ciao. Così salutiamo tutti i tuoi fan che ti seguono e quelli futuri anche che ti seguiranno dopo che avranno visto queste tue opere veramente bellissime. Grazie. Grazie a te. Ciao da Salvatore e da Pietro Barrasso. Ciao.